ciao ragazzi buongiorno siamo qui con francesco papapietro di sony italia e tam di sony europa per la presentazione in anteprima di questa meravigliosa rx 0 mark 2 attesissima wow lcd orientabile mancava sulla 1 4k che avete chiesto in tantissimi stesso design quindi stessa robustezza impermeabile fino a 10 metri oggetto spettacolare per il vlogging molto compatto molto piccolo capace quindi sia di fotografare grazie a un sensore da un pollice stacked per cui anche con velocità dell'otturatore molto molto elevate e perfetta per il vlogging la venderemo in kit con il grip incluso e la staffa quindi per ottenere un oggetto unico con anche il connettore per il microfono a partire da maggio ad un prezzo al pubblico consigliato di 800 euro tam what do you think about this new rx 0 mark 2 i think he already talked about everything but anyway we made it even better no this is the mac one so basically almost the same size let's see the difference so the width and the height is the same just the depth is a bit thicker because now we have the flip screen quindi cambia solo la profondità per dare spazio ovviamente al monitor poi degli ingressi e le uscite sono le stesse but the performance is very improved so we listen to customer feedback we have 4k internal as is explained we have electronic stabilization even the close focusing is from 50 centimeter to 20 centimeter is much better now quindi sony ascolta il parere degli utenti e questa è una cosa che onora tutti gli utenti sony la distanza di messa a fuoco è ulteriormente ravvicinata dai 15 ai 20 stabilizzazione interna e 4k interno che è stata forse una delle richieste maggiori all'inizio della rx 0 anche comunque l'avvicinamento 20 centimetri per le riprese in vlog in vlog che appunto un obiettivo di questa videocamera è appunto un ulteriore esempio di come sony prova sia di innovare con degli oggetti diversi rispetto a tutto ciò che è presente sul mercato sia ad ascoltare i consumatori per migliorarli continuamente dal grip cosa si fa rec zoom e foto tutto quello che serve poi si apre e diventa un treppiedino praticamente ovunque che poi l'obiettivo originario dell'rx 0 quindi poter fare ciò che non si può fare con le fotocamere tradizionali per questioni di dimensioni o questioni di peso ok so so really is perfect for if you're going to travel go to the beach you just put it in your pocket and you have everything there you can do 4k videos non forget you can do slow motion video and you can do 16 frames per second stills you can capture in raw in photos not video and then you can also do in turbo shooting so you can do time lapses internal giustamente ricordiamo che è anche impermeabilizzata e anche resistente a urti fino a due metri fino a due metri come cadute quindi sopravvivere a pressioni fino ai 200 kg mettiamola così sì è una macchina molto versatile molto robusta è ancora una prova di sony che in questo ambito cerca come diceva francesco prima di innovare di creare prodotti veramente fuori dal normale a normal product abnormal in 6 in 6 ciao a tutti i ragazzi seguiteci quando sarà disponibile la vedrete ovviamente da foto e me faremo una bella recensione